E' al sole, appena sei nel sole Chiiiiiiii parta ok Chiiii Paolo potresti girarti però, bisogna farlo da fare scusa sto facendo anche un video ah vabbè bisogna farla anche con me uuuu, questa è proprio la foto da mettere no, però al contrario sulla paracanesi ma parola che non è a fuori i buchi avanti Senti il gallo, ma io non ce l'ho questo qua, perché tanto poi va girato e viene, va girato, e tanto ti cominci da qua, anzi sì, mi cominciamo qua per poco, ma è rito, sto pensando dopo di pigna l'acqua, sì hai ragione, perché poi ci bisogna girarlo.